Grazie a tutti. Sta tutto sognato, chi fa una mano, chi fa una domanda, quella con questa, questa con l'altra sta tutto scritta, sta tutto sognato. Ma dove sta scritta? A dove è sognata una sorta triste con un gioco di roccia? E chi è questo un fan? Sta una madonna che segna e scriva, rinca questo libro e che dice, ma tu, tu no, tu sì, ma non se ne trova una pagina che ha rubato, pulato a ritrasare, un libro, una foglietta, una punta, non se ne trova l'aria, nel tempo, caso fosse che una pagina solo si trovasse una punta segnata, una parola, se potesse con certezza sapere qual è la mano che scrive, se sapesse, si scrive con un scopo, una ragione, o con un sfizio soltanto, o solamente con un bambagiano. a dove sta scritta, a dove è segnata una sorta di gioco di roccia? E a dove si mette una sorta, con un sfavore, il primo giorno, il primo giorno, l'ora e il tuo momento, che ha raggiunto un bambuolo a tradimento. il primo giorno, 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 il primo giorno. E poi quest'altro si saluta perché c'è il treno, purtroppo. Ah no, ok, per cambiare questa pagina leggiamo questa poi. Un mariolo che ha la roba di solito, si non sa far rubare, la carcerà. C'è un po' per un canale ammalata, questo per questo, e tanto andrà scontato. Ma quella che ti ha roba di dall'occhio, mentre tu parla di un pensiero tua moglie. E poi c'è la roba che tu subi. Non va anche a lei, ma per conto mio, questo povero non mi ha fatto un assaggio. E' fissa, ma se sei scelto un'altra. La scelta con un pensiero carcerato. E' stato un pochino per te. La scelta con un'altra. La carne è per l'uomo come cosa c'è via e l'umano. E' per il nome di lo cos'hanno che ti vedrà la pinta, o che va. c'è stato il cagabellignam a tre asso, la gamba scullata, che la sciacqua è quella quadrata che la comanda è stata rispettata. E chi ha da una vostra malazione? Chi può scrivere musica vecchia? Chi, soltanto, puce parte le amiche? Che fortuna, si, non lo si.